Purtroppo si ripete una situazione di qualche mese fa, non riusciamo ad ottenere da parte della regione una discarica dove poter conferire i nostri rifiuti. Tutto questo avviene quando il nostro comune ha finalmente assegnato a una ditta l'incarico di procedere alla raccolta dei rifiuti attraverso la pratica della raccolta differenziata in tutto il territorio. Proprio nel momento in cui abbiamo anche acquistato dei mezzi che ci dovranno aiutare per migliorare il sistema della raccolta dei rifiuti anche dal punto di vista della raccolta differenziata. Avviene tutto questo nel momento in cui la nostra città si appresta anche ad aprire con Pasqua la stagione turistica. Non riusciamo a comprendere le motivazioni di queste decisioni di chiusura delle discariche senza prevedere sistemi alternativi. Che cosa devo fare il sindaco? Devo mangiarmi i rifiuti? Ci deve essere qualcuno che ci dice dove portare i rifiuti. Abbiamo anche stamattina per l'ennesima volta inviato una PEC, emesso comunicati stampa, cercato di fare arrivare alla regione il nostro messaggio perché temo che la situazione grave di queste ore possa complicarsi ulteriormente e naturalmente se questo dovesse verificarsi è chiaro che ognuno si assumerà la propria responsabilità.